Amici di SirGadget, siamo pronti per presentare una novità importante, è il nuovo Huawei P20 Pro. Ecco dunque la confezione del prodotto lanciato proprio da pochissimo a Parigi e che vediamo da vicino dopo averlo anche utilizzato per un po'. Aprendo la confezione ovviamente la prima cosa che appare è lo smartphone ma questo lo guarderemo più attentamente dopo mentre vogliamo vedere anche cosa c'è dentro la confezione. Caricabatterie con la compatibilità con Huawei Quick Charge, poi un cavo con il terminale USB Type-C e poi dentro la confezione anche queste cuffiette con un aspetto, un design che mi ricordano qualcosa ma adesso non mi viene in mente che cosa. Dentro la confezione non c'è una cover, non so se questo spazio sia per la cover che eventualmente si troverà nella versione commerciale del telefono, adesso non ve lo so dire, onestamente lo scopriremo solo tra qualche giorno. A proposito di versione commerciale del telefono, questo è un dispositivo che trovate già in vendita, in particolare nello store Huawei di Milano, lo trovate ovviamente nello store online di Huawei e nel giro di pochissimi giorni arriverà anche con la grande distribuzione italiana. Allora, vediamo subito i dettagli. Primo elemento che appare è quello di un display praticamente senza cornici, fatto veramente molto bene, da 6 pollici con una definizione Full HD+, quindi 1080x2160 pixel. Altro elemento che risalta è la fotocamera anteriore che è da ben 24 megapixel, bisogna girare il telefono per vedere la curiosità più grande, cioè quella dei tre sensori fotografici. Il teleobiettivo, un sensore monocromatico e poi una fotocamera da 40 megapixel, anche se fate attenzione perché stiamo parlando di 40 megapixel con i pixel interpolati, cioè vuol dire che vengono scattate più fotografie, vengono sommati tutti i pixel e quindi il risultato finale ci dice che sono 40, ma non è un sensore con 40 megapixel di potenza al suo interno. Parte posteriore, tra l'altro, devo dire, con questa finitura di colore davvero spettacolare, vedete un colore cangiante che secondo me è assolutamente bellissimo. Peraltro, ecco, un po' sporgente la doppia fotocamera, leggermente tagliente, se proprio devo farvi vedere, ecco vi faccio vedere il dettaglio anche dalla vista verticale, vedete, leggermente sporgente. Bello il dettaglio di questo pulsante di accensione con la traccia rossa, in questo lato il volume rocker, sul lato opposto il cassettino per la sim, mentre sulla parte superiore abbiamo il sensore per gli infrarossi, dalla parte opposta gli altoparlanti con l'attacco USB Type C. Per quanto riguarda il software, voglio prima di tutto fare una cosa importante, perché io la prima cosa che faccio, proprio la primissimissimissimissima in assoluto, è quella di cambiare il launcher, perché, forse ve l'ho già detto, insomma non mi piace tanto il launcher di Huawei, che però adesso rimetto nella sua versione con il cassetto delle app. Voi probabilmente sapete che se avete un prodotto Huawei, quando andate nel menu del display, potete scegliere lo stile della schermata home. Visto che siamo qua, vi faccio vedere anche un'altra cosa curiosa, questa parte è stata tradotta a tacca, il notch è stato tradotto a tacca, guardate bene quello che succede sul display, sparisce essenzialmente il notch se io faccio questa scelta di nasconderlo. Avete poi la possibilità di gestire anche tra l'altro la risoluzione dello schermo con anche la funzione della risoluzione intelligente che permette di ridurre la definizione dello schermo quando essenzialmente dovete risparmiare la batteria. Qui potete scegliere anche gli altri elementi dallo sfondo, ma lo sfondo lo potete governare anche dal menu legato ai temi e poi quello della protezione degli occhi e anche la selezione dell'intensità di colore. Vi ricordo che tra l'altro questo è un display OLED di ottima qualità e questo dà anche una riproduzione dei colori molto molto gradevole. Allora abbiamo detto cosa c'è di particolare all'interno di questo telefono? Io vi voglio far notare soprattutto un'applicazione che però non è ancora compatibile con il mercato italiano, le sto facendo scorrere tutte non a caso per farvi vedere anche un po' delle applicazioni che ho inserito. Ecco, questa è l'applicazione, si chiama Wallet ed è l'applicazione che verrà dedicata ai pagamenti da Huawei. Come funziona questo telefono? Non ci sono delle innovazioni straordinarie dal punto di vista proprio della gestione del software. Molti dei miglioramenti che sono stati apportati vengono dalla disponibilità del processore Kirin 970 al suo interno. Io intanto vi faccio vedere anche il funzionamento dei menu, essenzialmente tutto quello che avete a disposizione compresa l'assistenza intelligente come ad esempio i controlli dei movimenti tra le altre cose. Ecco, ma vi dico, il Kirin 970 è un processore importante perché oltre a supportare la fotocamera aiuta anche alcune applicazioni a fare delle cose che altrimenti dovrebbero fare online. Ad esempio l'applicazione Prisma, nel caso del P20, funziona con l'elaborazione delle foto che viene fatta dentro il telefono, quindi che funziona anche se siete scollegati. Voglio farvi vedere anche un po' cosa succede con la fotocamera. Avete essenzialmente diverse modalità, qui potete controllare l'apertura, qui potete fare lo scatto notturno, questa è la modalità ritratto, poi la foto invece nella sua modalità più, diciamo, automatica. Avete la possibilità di riprendere i video, avete la possibilità di controllare tutti gli aspetti della fotocamera e poi vi segnalo anche lo slow motion. No, lo slow motion, questo è un tema importante perché in pratica con questo selettore potete scegliere a che punto di rallentamento far funzionare il telefono. Già che ci sono, vi mostro dalla mia galleria, queste sono foto che ho scattato nella giornata di ieri, ecco provo a farvi vedere un pelo da più vicino, questo video che mostra essenzialmente il super slow mo in funzione. Ve lo faccio vedere anche da un'altra angolatura perché potrebbe essere interessante. Non concentratevi sulla ragazza, ve lo dico subito, concentratevi invece sul dettaglio. Io so che c'è un dettaglio della ragazza che potrebbe colpirvi, ma non è quello il tema. Vi faccio rivedere ancora un attimo questo video. Insomma, lo slow mo a 960 è veramente fighissimo, devo dire. La definizione di questi video in super slow motion a 960 frame al secondo è HD, quindi non full HD come riesce invece a fare Sony. Ovviamente per la fotocamera, ecco vorrei farvi notare in particolare un dettaglio, questo è un dettaglio importante. La modalità notte, essenzialmente quando voi scattate potrebbe volerci molto tempo per riuscire a ritrarre la fotografia. Ma devo dire che il risultato poi è veramente notevole, insomma non sarà facile vederlo dalla fotocamera, però vorrei farvi vedere in particolare questo scatto che arriva ad un livello di dettaglio in notturna che è veramente importante. Certo, se bisogna dare un occhio a questa fotografia, questa è una fotografia comunque con alcune parti sovraesposte, guardate il colore del cielo che è piuttosto curioso. Per vedere la differenza tra come funziona il sistema notturno e la funzionalità automatica, guardate il colore del cielo in questa foto. Allora questa è una foto in automatico normale e questa invece in modalità notturna. È difficile non cogliere la differenza ma concentratevi su questo punto che è quello che è sopra la piramide, ecco vedete cambia tantissimo il colore del cielo. Questa è una delle differenze fondamentali. Questo è un telefono che ha audio stereo, quindi questo è un dettaglio importante, supporta Dolby Atmos, questo è un telefono che tra le sue svariate caratteristiche ha anche quella di avere un DAC, quindi un convertitore di audio digitale al suo interno, quindi vuol dire che l'audio è veramente di tipo elevato, ma non solo perché questo è un telefono che supporta anche la connessione senza fili, audio ad altissima qualità. Quindi se avete un dispositivo che è predisposto per ricevere questa connessione ad alta qualità, la riproduzione della musica sarà drasticamente migliore. Batteria da 4000 mAh, anche questo è un dettaglio importante. Il processore abbiamo detto il Kirin 970 con 6 GB di RAM. Al suo interno invece la batteria ha una, scusate, la memoria può essere di 128 o di 256 GB. Allora, vi devo dire questo è un prodotto proprio bello, esteticamente fatto bene, certo ha una somiglianza e una familiarità che sono innegabili, però vi dico è un lavoro di costruzione veramente ben fatto. La fotocamera dalle prove che ho fatto ieri sera per le strade di Parigi sembrerebbe una fotocamera mostruosa. Non vi nascondo che questo è un oggetto molto molto interessante. A voi a questo punto la scelta. Ciao da Mr. Gadget.